Noi in Ipsos abbiamo visto che diventava... Esistono i libri, ci guardiamo la struttura della distribuzione della popolazione per titolo di studio La ricerca che è alla base di questo libro Noi come Ipsos siamo presenti E' un disagio semplifico nella realtà E che cavalchino appunto queste occupazioni, queste paure E' diventato la necessità di non capire le parti Antonio Mari, guardate che sono un uomo senza la zappa Secondo gli italiani 35%, cioè uno su tre di tutti noi che siamo in questa piazza soffre di diabete Giusto per darvi un'idea In strada ci dice che sono un po' più del 3%, secondo gli italiani sono del 20% Ancora un grande rilievo, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato una ricerca che aggiorniamo ogni anno, dal 2014 in poi La miglianza delle persone è su quel dominio delle percezioni Quindi quello che voglio dire è...